Musica Si riconferma un percorso di successi tra Fisio, Med e Cantine Riunite Tolentino Calcio a 5. Anni di successi e ancora una volta Cantine Riunite è qui presente per consegnare un'altra maglia dottore Pezzo. Allora, ormai abbiamo iniziato questo percorso, diciamo che ogni settimana usciamo con qualche novità, ma ormai la comunicazione è diventata una parte importante per la nostra struttura, visto che è diventata importante questa struttura, ma io direi più che struttura ormai possiamo dire un complesso di sanità privata, però fondamentale. Beh, il discorso con Cantine Riunite è un discorso che parte da lontano, diversi anni fa abbiamo iniziato a dare questo supporto e soprattutto a svolgere questo ruolo, diciamo, di assistenza anche da un punto di vista naturalmente, anzi fondamentalmente da un punto di vista sanitario. Ed è questo, è stato anche uno dei motivi in cui c'è stato questo rinsaldamento, diciamo, di questo rapporto, perché poi un po' anche sicuramente ci ha allontanato la pandemia, tutta una serie di cose. Oggi abbiamo creato una struttura in cui questa è la sala dove ci incontriamo spesso per onorare, insomma, siamo felicissimi di avere questa sera qui insieme a noi il gruppo Cantine Riunite e soprattutto quello che è la cosa più importante che ci preme e che abbiamo voluto fare nell'ultimo periodo è quello di dare una struttura efficiente all'interno di questo gruppo e questo è un esempio con le cinque strutture che noi abbiamo distribuito nella provincia di Macerata di cui due qui a Sforzacosta, questa è l'ultima nata, però anche le restanti, quindi Tolentino, visto che poi il gruppo Cantine Riunite è proprio di Tolentino, è diciamo un atto dovuto. Io oltretutto sono un Tolentinate perché comunque vengo da quell'area e quindi è per me un motivo in più per essere vicini a questi ragazzi che comunque sono bravissimi, bravissimi sono i dirigenti, bravissimi sono i tecnici ma soprattutto i ragazzi che sono un po' le figure del futuro, quelle che dovranno continuare questo progetto. E noi cerchiamo di essere presenti, ribadisco, qui in questa nuova sede dando più spazi, più servizi, dando degli ambienti naturalmente molto più accoglienti rispetto al passato ma soprattutto la novità di questi due aspetti è il periodo delle ferie che comunque ormai noi ci siamo abituati a non farle ma soprattutto a dare ancora maggiore supporto a chi ha bisogno. Naturalmente qui non è riferito soltanto alla società sportiva ma a tutti coloro che naturalmente hanno bisogno durante questi due aspetti. Questa è una cosa che ci tengo a precisare. Diciamo che per certi aspetti nonostante le difficoltà che può comportare questo tipo di organizzazione però è fondamentale per i cittadini ma io aggiungerei anche per quelli che si trovano di passaggio durante questo periodo di ferie. Comunque vengono, hanno un supporto in più per potersi curare, per poter avere una... Un punto di riferimento professionale sul territorio e sotto casa direi. Bravo, ecco quindi questo diciamo ci spinge ancora di più a fare di più e a fare meglio. Sicuramente questo è un aspetto essenziale per quello che è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo, lo sapete ormai penso che mi sono stancato a dirlo, è la salute, la salute dei cittadini. In questo caso parliamo dei ragazzi che in questo caso naturalmente hanno bisogno, a maggior ragione perché poi sia per i traumi sia per... E siccome con questo gruppo dirigente che comunque hanno la forza, la capacità ma soprattutto il carattere di tirar via questi ragazzi dalle strade, dalla strada comune e portarli a divertirsi e perché no poi magari cercare di creare e sviluppare un mondo diciamo sportivo agonistico in maniera più professionale. Però ecco, bisogna partire sempre dal basso, no? Si inizia a quattro anni e quasi quasi ci si inizia a muovere. Poi successivamente si fa di più, di più, di più e poi naturalmente vediamo che nascono questi campioni. Per quello che concerne appunto la struttura l'abbiamo detto, oggi qui abbiamo la presenza di una risonanza magnetica 1,5 Tesla ad alto campo, abbiamo una TAC 128 strade ad alta definizione, abbiamo una combina, abbiamo una mammografia, io parlo della diagnosi più importante, chiaramente tutti i servizi, quindi prevenzione, diagnostica, cura e da qui a un lasso di tempo contenuto sicuramente avremo anche un blocco chirurgico che sarà importante perché poi tante volte diciamo occorre anche questo tipo di interventi. Aggiungo, diciamo che questo è un punto essenziale, una cosa che non abbiamo mai approfondito, è quello di avere un punto di riferimento per quella che è la comunicazione e questo sarà un punto di riferimento appunto per la comunicazione, anzi preannuncio che nel mese di ottobre probabilmente daremo risalto appunto a questa inaugurazione in cui andremo a presentare un po' tutta la struttura, quindi con grande piacere, comprese naturalmente le autorità locali, regionali, perché no anche nazionali, ma soprattutto saranno delle giornate dedicate a chi vorrà visitare questa struttura e io aggiungo un'attività di formazione anche per, non solo per i professionalisti che sono all'interno, ma anche per quelli che sono all'esterno, quindi diciamo dai competitor, dai sanitari pubblici, insomma tutte quelle figure che comunque possono soltanto dare un arricchimento a quello che è la sanità di cui abbiamo tutti bisogno. Con Marco Salvatori, presidente della squadra di calcio, da giocatore a presidente, come ha vissuto dal 2016 questa storia del calcio a 5, tra l'altro al fianco di Fisio Med? Sì, ho giocato per 22 anni a calcio a 5 e 17 dei quali alle cantine riunite e in questi 17 avendo iniziato da ragazzino mi sono proprio innamorato dello sport e della società, quindi poi nel 2016 quando ho deciso di smettere nel rettangolo di gioco perché l'età avanzava mi è stata fatta la proposta di assumere la presidenza e l'ho accettata volentieri. È un passaggio delicato però l'ho vissuto bene, poi purtroppo dal 2016 sono accadute tante cose, il terremoto, la pandemia e come dicevamo in conferenza anche grazie a Fisio Med siamo riusciti a rimanere in piedi perché è stata dura, però ci siamo grazie anche a gruppi come questi e a famiglie come queste che ci supportano, che oggi ci ospitano in una struttura che è davvero un gioiello. Veramente un connubio vincente, quello tra la vostra società e Fisio Med naturalmente, ma ha parlato di problematiche, quanto è cambiato lo sport di ieri, lo sport di oggi o quando sono cambiati i giovani di oggi? È cambiato tutto, da quando ero io un adolescente il modo di intraprendere lo sport è cambiato totalmente. Oggi una volta era il ragazzo che si proponeva, era il ragazzo che lo trovavi lì, che aveva voglia di giocare, oggi per milioni di motivi che adesso non stiamo neanche a sottolineare perché diventerebbe lungo il discorso, siamo più noi che dobbiamo andarli a coinvolgere e non è facile coinvolgerli perché hanno milioni di cose alle quali possono pensare che noi magari non avevamo. Per noi il calcio, il calcio a 5, il volley, il basket era un motivo di vita, per loro oggi lo è molto di meno. Se da una parte c'è meno pressione in loro probabilmente o aspettative per il futuro, è però difficile coinvolgerli, tenerli in queste realtà. Devi fare tante cose, devi essere propositivo, devi saperli coinvolgere e devi lavorare tanto. Tutto ha un costo, tutto ha una necessità di tempo, di dedizione, quindi è complicato. Però se ci si organizza e se ci sono i supporti giusti, e questo è un esempio di supporto perfetto, si semplifica tutto di molto. Com'è stato il campionato la scorsa stagione di Cantina e Riunite e quali le prospettive per la prossima stagione? Il campionato è andato bene, noi venivamo da un'annata, quella precedente se la possiamo definire disastrosa non facciamo danni. Con Mr. Zamboni ci siamo guardati negli occhi l'estate scorsa, abbiamo detto che dobbiamo fare meglio, puntare ai play-off. Questo è avvenuto e abbiamo anche fatto un ottimo play-off, poi per veramente per un pizzico non siamo riusciti ad andare avanti, quindi ci teniamo questa bella esperienza, questo bel campionato e lo prendiamo come punto di partenza. Abbiamo fatto una campagna acquisti se vogliamo che è in fase di definizione, ma ormai è definita, che secondo me, secondo il mister ci rafforza, quindi dobbiamo per forza guardare in alto in questo campionato di Serie D che speriamo di poter vivere da protagonisti. Per il settore giovanile, perché a cascata abbiamo l'Under 19, Under 17, Under 15 e probabilmente due squadre esordienti e una squadra dei primi calci. È soltanto un problema di spazi, perché purtroppo ce ne sono pochi in tutte le realtà, Tolentino ma anche in altri comuni, quindi definiti gli spazi è una crescita per tutti i nostri ragazzi e per tutti i nostri giovani che in totale sono circa 120, quindi comunque rimane una bella realtà. E allora dopo il presidente andiamo a sentire proprio le parole di mister Andrea Zamponi, della passata stagione abbiamo parlato, ma parliamo un po' di questi giovani, questi esordienti e anche qui parliamo un po' del prossimo campionato, perché no? Sì, io sono allenatore della prima squadra, ma personalmente mi piace e amo seguire un po' tutta la categoria che abbiamo noi a Tolentino al calcio a 5, che partiamo praticamente dai primi calci, pulcini, esordienti, per poi arrivare Under 15, Under 17 e Under 19, fino ad arrivare alla prima squadra. Quindi io sono ormai 4 anni che alleno la prima squadra e la nostra base degli adulti è sempre stata composta da almeno il 50% dei ragazzi che sono cresciuti con noi nei vari settori giovanili, nel nostro settore giovanile. Quindi mi piace parecchio seguire come vanno, come crescono, proprio perché in questo periodo di difficoltà, come diceva Marco, mi ricollego a lui perché lo stavo ascoltando prima, questo periodo di difficoltà nel trovare giocatori disposti a mettersi in gioco un po' per tante motivazioni, perché poi in definitiva non siamo professionisti, di conseguenza non è nemmeno facile andare a trovare il giocatore che è disponibile il venerdì sera per la partita, gli allenamenti e poter crescere dei ragazzi in casa con delle motivazioni che crescono già con il sapere, la volontà di arrivare in prima squadra e quindi questo può entrare anche in alcune scelte, chissà future del ragazzo e quindi è un valore aggiunto poter crescere, poter avere un settore giovanile come il nostro. Di conseguenza noi siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto finora e che ogni anno riusciamo a portare in prima squadra due, tre ragazzi, minimo tre, quattro ragazzi. Oggi qui alla conferenza, qui da Enrico alla Fisio e Med ce ne erano quattro, di cui tre sono cresciuti con noi, è un ragazzo schiavone, il portiere che è di San Severino ed è diciamo la fotografia perfetta di quello che siamo, un'integrazione perfetta tra giocatori che vengono da fuori, tra giocatori di Tolentino che cercano di dare il massimo per un colore che è il crevisi. Una famiglia sportiva unita ma come il cammino che dal 2016 vi lega proprio a Fisio e Med, non solo come sponsor ma anche importante partner medico qualora ahimè ci fosse la necessità in campo o fuori campo. Esatto, hai detto bene, purtroppo lo sport non è solo gioie ma sono anche dolori. Quest'anno io personalmente ho visto al di là che io sono un ex giocatore di calcio più che altro, più che calcio a 5, ho avuto tantissimi infortuni che al Fisio e Med sono passato diverse volte, mio malgrado, ma quest'anno abbiamo due ragazzi, uno di 22 e uno di 30 che hanno riportato una rottura del crociato che sono uno degli infortuni più più spiacevoli per un giocatore avere la possibilità di avere una struttura privata, vicina, presente con dei tempi veloci per poter fare delle diagnosi e delle visite specializzate rende questo percorso duro e difficile, è un po' più lieve nell'avere una diagnosi immediata per poi iniziare questo cammino di recupero perché un tempo, io mi ricordo il primo crociato me lo ruppi nel 2004 e allora certe strutture non c'erano, ti dovevi rifare all'ospedale metterti a andare dal dottore, farti fare l'impegnativa, andare all'ospedale, quello che tuttora è così però quei tempi che per uno sportivo poterli accorciare perché ti viene tolto la cosa che più ti piace fare lo sport, si cerca appunto di rientrare il prima possibile, avere la possibilità di curarsi di diagnosticare, curarsi e recuperare il prima possibile è importante Grazie a te, grazie a te, è veramente un gioiello per la comunità, quindi come associazione che ha detto di rinnovere, ti rinnovo il ringraziamento e anche la promessa di fare il massimo per portare avanti insieme al nostro e anche in vostro nome.